Grazie 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 Ma poi lo vedi, lo taglia E tu la mia rigasso piace Ecco, ti credo Non ci lamentare tanto Cosa è troppo certo? Vedete Che da questo? E' Ma un'ese Con Puccia Se le piace Poi se non le piace Che quale c'è E' bello Bereno The gonna 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 Is gonna The gonna The gonna Aspetta però, lei ha anche pizziata. Non l'ho fatto da quando ero domani altri. Ora c'è anche il pomodoro. Non lo so, non lo so. 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 Assaggia un po' l'interno. Non lo so. Non lo so. Sei venuto a sole per ritornare. Il nostro amore. La mattina è pronto. Vieni, vieni, come ti puoi da te? Anche così, eh. Vado, è favoloso, eh. Peccato che mangiare. Vado, è bellissimo, si invade. Vieni, vieni. Partiamo. Partiamo. Guarda il padre. Eccoci. Va bene? Partiamo. È peccat erstse. Ora vede a vedere. Ha ragione. Se parce? Se vede, anche s longtemps. Ha visto come bene? Eh, ha visto? No. È affondo. bravo, ci vanno è il salto ci vanno vai 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 il salto non è un po' come? non ti cazzava te ci cazzò hai a farlo a pensieri cosa deve fare? vai te lo devi vai te lo devi sopra i tappi le altre ah le altre la regina comanda la regina comanda senza lavorare non è per voi è roba nostra non è per me non è per me favolosa che faccio allora a poterlo mangiare non avere più tanta fame non avere più tanta fame ci darò l'esperazione ci ha aperto un pallino ci si metteva in tasca va bene va bene vuoi fare il ponte di Santa Maria che era a sabato quella fare lì ecco è un ponte di patate si si è un ponte di patate mi servono italiano mi servono italiano Sì, non è così, non è così, non è così, non è così. Sì, non è così. Sì, non è così. Sì, non è così. Sì, non è così. Sì. Sì. Sì, non è così. 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 Sì, è così. Sì, non è così. Sì, non è così. Sì, è così. Sì, non è così. Sì, 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 è così. Sì. No, è così. Sì, 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 è così. Ah, è così. Sì, è così. lei vince all'otto, io fino alle 9 e mezzo non si sviluppo è un problema la tua sorella doveva vincere 7 ma qualche volta ha vinto lei per l'anno 6 no, stamattina mi sono andato, non ho per andare in paio, non c'è tanto si doveva nemmeno fiorere ma c'è un orologio bello grande si, poi quando voleva partire il culo, non lo facete sempre scendere la luce, non lo regalo ma a più beccura è il problema non lo faccio a me ma forse non lo faccio a me ma forse ma non lo faccio a me ma forse ma non lo faccio a me ma anche lui ma vedi 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 ma non lo faccio a me ma la sua ma la sua ma la sua guarda, tu tenai un pochino... il terra, te la fai un po' e la bloccata tutta loro che fa su? eh, non le mandava su loro tiro a tiro, tiravano eh si andava sempre, che la tirava e si tirava tirava, eh, sai lì e ora c'è finita sai come facevano la musica? e me li facevano, i piccoli, tirati i tirati con le trecce e io, e lui, con le tiranate eh è vero eh si, a casa gli dà subito gli dà subito una e vede quelle belle testine con queste belle testine appodate guarda, non noi ma io la credo subito si, eh ma io... non so ma io la vedo mi chiedo ma io la vedo la vedo la vedo e la vedo Sono contenta che te stai cucinare, hanno detto, attento, è come Silvio, eh, mi dice Silvio, a me mi troppo se mi fanno da mangiare, che è possibile, si, tra lui, tra tutti, tra lui, perché quell'altro non sanno fare, ma è, 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 ma è. E' meglio, eh, Paolo, eh, quando, l'altra serie mi ha fatto in vivo, è arrivato, mi hai venuto a mangiare, eh, non ti preoccupare, tieni velho donna mia, dara mamma, mi dice, non come non vuoi? vuoi buttare tutto insieme? prende una teglia prende acqua adesso si olio come dare un fagiolo un mescolo ho fatto una teglia e ho fatto anche con fagioli e un buce notte un buce notte e il timosio e il timosio il timosio è 15 paolo è ora si è rimasto poi si è fermato ora ecco che il timo è un minuto è un minuto e ora io non non sono problemi poi No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.